ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di misuratori del tempo non ho cambiato nome al canale misuratori del tempo è il termine con il quale alle mano definisce i propri orologi e questo perché si tratta di un'azienda nata nel 1856 che da sempre da decenni realizza strumenti di misura e di precisione manometri termometri strumenti utilizzati sia sui mezzi militari che sulle prime fiat su aerei e su navi si arriva poi al 1980 quando espande il proprio campo ai profondimetri decompressimetri e tutti quegli strumenti dedicati alla subacquea non restava che fare il passo nei segnatempo cosa che avviene dunque nel 2019 con la realizzazione della prima collezione come si vede si tratta di un'azienda ben strutturata con una certa esperienza nel campo degli strumenti di misura da decenni e che non si può quindi definire un micro brand qual è la particolarità di alle mano che ha deciso di riportare sui propri misuratori del tempo quegli stilemi tipici dei manometri che realizzava nei decenni scorsi ecco che quindi abbiamo degli orologi che schiaffeggiano il buon gusto imperante andando a replicare le forme cilindriche spesse degli strumenti di misurazione professionale di sicuro una scelta originale e di impatto ma che può non andare incontro ai gusti di tutti bisogna essere estrosi ed anticonformisti per poter indossare questa tipologia di orologi così particolare così in stile strumento professionale pensate che la gioielleria pasquale domenici di viareggio che è partner ufficiale del canale da sempre stata concessionario di alle mano e ho sempre trovato delle difficoltà a portare sul canale quel tipo di orologio quel tipo di misuratore del tempo la cosa cambia quando nel 2022 presentano questa collezione la collezione shark 1973 pur rappresentando gli stilemi tipici di alle mano un family feeling riconoscibile diciamo che è un orologio dallo stile più canonico che rientra a pieno nei miei gusti un orologio standard diciamo no non così particolare come gli altri perlomeno ho deciso quindi di portarlo sul canale ed ho scelto la versione blu anche se poi esiste la versione nera con quadrante nero e la versione con quadrante giallo che però è una limited edition molto particolare a proposito non sono solito parlare della confezione di vendita ma faccio un'eccezione perché trovo che il cilindro in plexiglass sia qualcosa di insolito in linea con la originale filosofia di alle mano ora prima di guardare l'orologio vi mostro il mio orologino del giorno che è questo simpatico oris big crown mare nostrum quello con il quadrante blu la cassa in bronzo un'edizione limitata per l'italia arrivata e subito scomparsa nel senso non ci sono più cassa bronzo il quadrante di questa tonalità non sono più vendita io ci ho messo questo bellissimo cinturino in squalo dell'amico john cool straps che parte anche lui del canale e mi ha fatto rinascere l'orologio l'aspetto dell'orologio è migliorato in maniera incredibile mi piace così mi piace blu 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 mi piace giriamo la camera no basta con i discorsi e diamo un'occhiata a questo shark di alle mano iniziamo come da usanza con il considerare ciò che ci restituisce la misurazione sul campo diametro cassa 42 mm ingombro trasversale al polso 51 spessore 13 e interasse ansa da 21 mm proporzioni davvero diver professionale ma senza esagerare i 42 mm possono essere considerati quasi lo standard per questa tipologia di orologi e nella fattispecie occorre poi considerare che la particolare forma della cassa agevola la buona riuscita della resa al polso questo perché la ghiera ha un diametro di 41 mm e nella vista dall'alto appare quindi più contenuta rispetto alla cassa insomma un orologio che in quanto pensato per l'ambiente acquatico corrisponde esteticamente alla mission per la quale è stato creato a livello di design ci troviamo di fronte ad una cassa a cuscino che nel limite del possibile presenta anche un minimo di personalità abbiamo visto in passato che non è sufficiente definirla a cuscino per renderla automaticamente uguale alle altre qui abbiamo delle anse che viste dall'alto appaiono alquanto larghe e soprattutto che tendono a spiovere verso la parte esterna questo unito al fatto che di lato sono piuttosto ricurve definisce incisivamente l'aspetto globale che definirei tondeggiante dolce e questo nonostante non siano presenti biselli o smussature di congiuzione una cassa spigolosa e morbida allo stesso tempo che sia piuttosto avvolgente lo si nota poi anche dalle piegature presenti nella parte inferiore delle anse un'accentuata curvatura che è anche funzionale all'ergonomia nel momento in cui lo si va ad indossare da notare il fondello a vite semplice spartano forse anche spoglio ma di sicuro figlio della volontà di presentare un orologio con pochi fronzoli più adatto ad essere considerato uno strumento con 300 metri di impermeabilità che un diver da aperitivo a conferma di ciò vi sono altri elementi che lo caratterizzano come tale ossia la presenza della valvola per l'espulsione dell'elio la corona a vite incassata ad ore 4 e la lente magnificatrice si tratta di dettagli che univocamente lo vogliono dipingere come tool watch a quasi nessuno tornerà utile la valvola ma sapere che è presente ci consente di inquadrarlo in un dato ambito vi ricordo che la sua funzione è quella di espellere l'elio dalla cassa nel momento in cui si effettuano immersioni in campana così come è particolarmente efficace la protezione alla corona di carica che è stato possibile ottenere grazie alle anse particolarmente larghe il fulcro del concetto non è impedire alla corona di subire urti ma fare in modo che quegli urti vengano sborzati da una leva più corta che vi sia insomma una superficie a contrastare lo spostamento laterale dell'albero in ultimo la lente magnificatrice che svolge perfettamente il suo compito andando ad ingrandire efficacemente come non sempre accade la finestra data sottostante da notare poi il fatto che sia datario che corona sono posizionati ad ore 4 andando così a completare il senso di equilibrio e a restituirci un qualcosa di ponderato non ho ancora parlato del calibro che muove il tutto ossia il calibro sellita sv200 il movimento svizzero di fornitura più comunemente utilizzato si tratta della sua versione standard ma la particolarità è che qui viene testato singolarmente e ogni orologio giunge con il proprio bollettino di marcia in fase di controllo vengono rilevate i scarti su quattro posizioni e redatto il documento di accompagnamento numerato se i risultati sono fuori standard l'orologio non esce dalla fabbrica l'esemplare mio possesso riporta uno scarto massimo di meno 5 più 6 secondi al giorno a parer mio questo è un valore aggiunto di non poco conto chiaramente i test vengono eseguiti nel laboratorio interno di allemano che da decenni lo utilizza per i propri strumenti professionali ma se non fosse sufficiente come garanzia ecco che il tutto viene eseguito sotto la supervisione di accredia che è l'ente unico nazionale di accreditamento disegnato dal governo italiano un organo ufficiale che ha il compito di attestare la competenza e l'imparzialità dei laboratori di prova e taratura nel bollettino sono poi presenti ulteriori informazioni tra cui il test di impermeabilità e il numero progressivo dell'orologio in questo caso il 48 numero che poi ritroviamo stampato sul quadrante sotto la dicitura sn ossia seriale numero 48 mi piace il fatto che sia stampato disassato rispetto al resto a dimostrare la sua aggiunta in un secondo momento come se si trattasse di uno strumento di misura qualunque e non di un orologio da polso siamo abituati a vedere i numeri progressivi incisi sul fondello una soluzione più pratica e semplice da realizzare qui si è preferito marchiare il quadrante una scelta che sa di artigianalità da altri tempi così come è in solito trovare il logo posizionato ad ore 6 per lasciare spazio all'orgogliosa dicitura fabbrica italiana ad ore 12 infatti alle mano è un'azienda che si può freggiare del marchio made in italy nel senso più stretto del termine anche se il calibro è inevitabilmente svizzero quadrante cassa e bracciale sono realizzati in italia ma prima di entrare in contatto con il quadrante diamo lo sguardo alla ghiera unidirezionale è a 120 scatti con inserto in opaco e ciò che la identifica è sicuramente la larghezza inferiore alla media una ghiera che si distingue anche per la grafica riportata che risulta essere omogenea per tutta la sua circonferenza numeri alternati a dot senza soluzione di continuità e l'occhio viene riempito a dovere occorre segnalare che il colore degli accenti è bianco e va a riprendere la minuteria presente all'interno del quadrante lungo il rio si vede chiaramente che quest'ultimo è sopraelevato rispetto al disco quadrante centrale una realizzazione su due livelli che accentua la sensazione di tridimensionalità globale e allo stesso tempo separa due differenti scelte cromatiche infatti la sezione dedicata alla lettura vera e propria dell'orario vede protagonista il color sabbia del deserto un particolare beige che è conseguenza della scelta del tipo di super luminova è presente sia sugli indici stampati che sulle sfere a matita rendendo così la leggibilità veramente ottimale lo si vede anche dalle riprese l'insieme vetro zaffero piatto trattamento a antiriflesso e contrasto quadrante ci restituisce una lettura senza problemi di sorta ho lasciato per ultimo un piccolo dettaglio che però è significativo la sfera dei secondi laccata di rosso al di là della scelta cromatica che comunque ben fa il paio con il blu del quadrante è proprio la sagomatura stessa a connotare l'intero aspetto dell'orologio un tratto distintivo presente su tutti i prodotti alle mano siano essi manometri che misuratori del tempo insomma il classico family feeling identificativo chiaramente il rosso porta con sé la mancanza di super luminova ed infatti in assenza di luce la sfera secondi scompare poco male in quanto gli elementi necessari quelli che ci si aspetterebbe di vedere ci sono tutti compreso il dote di riferimento sulla ghiera da segnalare che la persistenza temporale della luminescenza è piuttosto elevata direi sopra la media non resta che parlare del bracciale sul design c'è poco da dire il classico profilo a tre segmenti alternati con la maglia centrale lucida e questo può essere un minus devo però rimarcare l'ottima consistenza e robustezza della realizzazione a dimostrazione di ciò si può notare che per il fissaggio delle maglie vengono utilizzati i perni a vite una soluzione di pregio la clasp è del tipo deployant singola con doppia chiusura di sicurezza diciamo che qui non ci si allontana dallo standard anche se è da sottolineare la prolunga per indossarlo esternamente sugli indumenti ben fatta robusta e dello spessore giusto per quanto riguarda la regolazione della lunghezza bracciale occorre evidenziare che le maglie sono tutte della stessa lunghezza ci vengono però in suo corso quattro forellini sulla clasp la micro regolazione riesce quindi a coprire la lunghezza di una intera maglia esistono però anche le versioni con cinturino in gomma e a disposizione ho due colorazioni il blu che va ad accoppiarsi tono su tono con il quadrante e il nero per spezzare la monotonia pur rimanendo nel classico il design è il tipico stile tropic e l'azienda che riproduce la sicalt leader in questo tipo di cinturini made in italy e la qualità si sente non ci sono dubbi non è però presente alcun logo sulla fibbia e questo mi lascia pensare che siano di semplice fornitura non personalizzata avrei preferito vedere un logo o di una scritta anche in questo dettaglio possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali questo orologio se non è una sorpresa poco ci manca si tratta di un'azienda che da sempre è nel campo degli strumenti di misure possiamo dire che una certa esperienza ce l'ha e che quindi sa come si fanno le cose se poi ci mettiamo che può essere considerato un buon esempio del made in italy ecco che il quadro finale va a favore dell'azienda e come sapete io ci tengo particolarmente che dietro ad un orologio ci sia un qualcuno di solido di affidabile di attendibile ogni riferimento ad altri marchi italiani è puramente casuale una volta compreso chi c'è dietro e come realizzano l'orologio parliamo proprio del segnatempo in segno punti deboli allora un punto debole che forse anche l'unico che mi sento di espletare al pubblico è lucido ossia la maglia centrale del bracciale lucida lato carour lucido la faccia della corona lucida insomma sono quegli elementi che non fanno il paio con lo stile dell'orologio nel senso che se lo vogliamo considerare un misuratore del tempo un tool watch diciamo che le superfici lucidi poco si addicono d'altro canto lo impreziosiscono leggermente lo rendono un pochino più gioiello ma io sono convinto che questo orologio non avrebbe neppure bisogno di essere impreziosito in questo modo nonostante ciò però consiglio di prenderlo con il bracciale perché perché i cinturini in gomma i sicalt i tropic possono essere poi acquistati in un secondo momento sul sito della casa o su un qualsiasi marketplace alternativo anche perché non essendo marchiati alle mano quelli di primo equipaggiamento non si va a cambiare nulla si può comprare in aftermarket ed ecco fatto che si avrebbe il cinturino come lo sia di primo equipaggiamento detto questo poi ci sono tutti i punti positivi quali la qualità costruttiva il controllo di qualità la solidità dei materiali la solidità dell'azienda che ho già detto quindi rimane solamente il lato estetico che è puramente soggettivo quindi se vi piace avete la disponibilità economica io direi che questo orologio è completamente promosso boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuta la panoramica dell'orologio e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.